Buongiorno. Signore, è un piacere. Gli amici della vedeta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie. Gorlomi? Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Gorlomi? Per cortesia, me lo ripeto ancora. Gorlomi? Mi scusi con me? Gorlomi? Ancora una volta. Gorlomi? 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 ט E' un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.